l'abbiamo visto dal vivo più volte l'ho visto dal vivo più volte sia in Italia, sia all'estero a Londra, sia in America con Wrestlemania 35 e ogni volta è stata un'emozione perché appunto ho un sentimento molto profondo per Randy, perché credo che sia probabilmente uno degli ultimi appartenenti a un business vero a un wrestling un po' più vero di quello che cercano magari, nulla da togliere le nuove generazioni, è semplicemente un modo diverso di farlo, però credo che il suo, lui, sia uno degli ultimi ad esporre il wrestling così com'è Stefano, eccolo qui wrestling megastars sì, sì io quel numero credo di non averlo e ho un po' quello lì non ce l'ho quello lì non ce l'ho quello di Randy non ce l'ho no tocca recuperarlo tocca recuperarlo dobbiamo vedere se si trova qualcosa su ebay dobbiamo vedere se si trova qualcosa lì e tu prof il tuo primo ricordo dedicato a Randy allora io l'ho detto già due giorni fa a CyTalk Slam il ricordo più pulito che ho di Orton è stata la vittoria del titolo contro Beruano ok ok e di conseguenza ricordo sempre l'electric chair di Batista il giorno dopo o comunque subito dopo con il thumb down di iconico di Triple H famosissimo mi ricordo che quella mattina era a fare spesa era a fare spesa e non ricordo dove bettai questo video e forse in qualche riassunto di Skype qualcuno me l'aveva mandato non ricordo proprio insomma riuscii a vedere quell'electric chair famosissima e ce l'ho ce l'ho impresso come come ricordo di Orton anche se poi certo ci stanno sempre le cose più stupide idiote tipo Coffee Kingston che gli imbratta la macchina con la vernice così come i tanti momenti che sono arrivati anche a causa degli errori che lui stesso ha commesso in carriera lui che faceva il legend killer proprio con le leggende di settimana in settimana poi ripresa da Rob Conway qualche qualche anno dopo no no ci stavano come come cose interessanti Orton e forse ecco forse invece quella più interessante che ricordo bene è stata la fighta con Taker la fighta con Taker era figa era figa con con tutti quanti i mind games di Taker era bella è stata correggetemi se sbaglio è stata forse l'ultima vera fighta sia vecchio stile che Dark bella interessante nella storia della WWE insieme a quello con Dark hai detto Dark probabilmente l'unica che si è avvicinata che ho amato tanto è stata quella tra Orton e Wyatt c'era anche Undertaker contro Undertaker contro Edge che c'era dei tratti Dark sì sì però quella è andata un po' più sulla normalità perché c'era Vicky Guerrero dietro la storia dell'Undertaker che arriva 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 ma non vince a causa dei magheggi eccetera eccetera se no c'è sempre quella se no c'è sempre il solito riciclaggio di Undertaker contro Kane l'ultimo nel 2010 quello è un tema a parte perché la storia dei Brothers of Distraction dove si ama a priori però c'è un qualcosa di extra dei Brothers of Distraction stesso io credo che cioè Randy Orton probabilmente è stato forse l'unico personaggio capace di adattarsi meglio un po' a tutto quindi al Dark anche al Comedy ogni tanto come dice Matteo un altro un altro grande ricordo per esempio anche per me la vittoria del titolo World Heavyweight contro Benoit la fai da contro l'Evolution quando e venne buttato giù oppure la fai da con Undertaker appunto Armageddon 2005 così come Super Evil Series 2005 non lo scorderà mai nessuno credo è diventato pure un meme tra l'altro tra l'altro sì 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 la rincorsa al titolo nel 2006 la rete d'Archeio la legacy il la fai da con Triple H del 2009 c'è stata roba roba importante d'altronde è inutile negarlo come lui stesso disse nell'episodio di Raw che andò a precedere Hell in SL 2014 è stato il principale antagonista di John Cena lui e John Cena così come Austin e Rock così come Bret Hart e Shawn Michaels hanno rappresentato un'era della WWE anche se diciamo la qualità in ring non è sempre stata purtroppo no tra loro due purtroppo no però comunque sono Batman e Joker della WWE sì 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 assolutamente assolutamente e adesso lo vediamo nei panni di questo e si sta divertendo adesso lo vedo il veterano che si diverte sì è bello perché si diverte poi comunque in tutte le interviste ha ribadito che adesso è una persona molto matura molto rilassata cioè oggi ho letto in una notizia che tipo si è fatto un casino di ore su Elden Ring sì sì 26 ore tra il viaggio e tutto sì 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 no ma questo l'ho notato in primis nell'edizione 2016 di Survivor Series quando si affrontarono il Team Raw e il Team Smackdown fu se non mi sbaglio la prima edizione della nuova era in cui si arrivò a rendere Survivor Series un po' il nuovo Breaking Rights della WWE e quando Shane McMahon subì la spia da Roman Reigns che la subì in quel modo un po' brusco e conseguentemente c'è stata un attimo di preoccupazione per Shane e Randy Orton fu il primo ad andare a Bordoringa a rassicurare i figli di Shane che in verità loro padre stava stava bene che non era nulla era solo un bump preso male eccetera eccetera ecco quando poi i vari siti americani intervistarono Orton lui stesso disse io sono cambiato tanto ho una famiglia ho figli ho moglie lui divorziato sposato cioè risposato altri figli eccetera eccetera ma nonostante ciò sono maturato tanto sono una persona diversa non sono più quello che va a cagare dentro i borsoni dei colleghi ma sono quello che o che distrugge le stanze d'albergo o che distrugge le stanze d'albergo o tante altre cose che sappiamo ma che non possiamo dire e quindi sono una persona diversa e ha mostrato questa sua maturazione sia nel privato sia appunto sul ring questa maturità si è vista questa maturità si è vista sotto ogni punto di vista logicamente e ne siamo lieti perché è anche questo lo step che ti fa passare un attimo da legend killer a leggenda vera e propria ma poi secondo me questa maturazione l'ha l'ha fatto l'ho fatto diciamo performare meglio anche sul ring perché sono più o meno da forse la fai da con edge o anche uno o due annetti prima e dicevo orton buonissimo lottatore però deve sempre essere motivato da forse due o tre anni dico orton è un lottatore è un signor lottatore molto intelligente che secondo me come come dice rick flair è uno dei migliori nella federazione nonostante il suo stile magari non sia super tecnico super spettacolare è uno dei lottatori forse dei lottatori più intelligente che c'è la WWE sì ma io aggiungo anche un'altra cosa lui è stato molto graziato sì se perché figlio di di una leggenda che ha fatto la storia in WWE oppure se perché appunto è un patrimonio ed è stato più volte graziato ricordiamo di di orton che è uno dei pochi che è arrivato al secondo step del wellness program e non è arrivato mai al terzo mentre altri ci sono andati abbastanza ampiamente è uno di quelle persone che è stata molto protetta quando era nel nella federazione in alcuni momenti della sua carriera perché orton era un po' quello che adesso è charlotte ossia quella quella persona a cui puoi dare il titolo quando devi far fare un po' di di passaggio devi perdere un po' di tempo devi aspettare magari la costruzione di un'altra persona o di di altri di nuove leve devi iniziare a far prendere il nome a nuove leve e quindi dai il titolo ad orton o comunque orton lo metti come avversario principale lo fai spesso ultimamente sai cosa è vero è stato graziato è stato graziato più di una volta sicuramente molto fa essere un nome di lusso perché comunque l'atleta di terza generazione l'intera storia della sua famiglia è in WWE conseguentemente diciamo che la raccomandazione tra virgolette sicuramente avrà avuto il suo utilizzo però è anche vero che storicamente si contano forse solidità di una mano i casi in cui la WWE ha licenziato i suoi atleti per wellness program dove di mezzo c'erano atleti realmente funzionali per la compagnia assolutamente sì erano tutti la WWE si è resa conto che orton era comunque un elemento funzionale con un suo pubblico fisso una sua ottima dose di merchandising da vendere e tante altre circostanze varie e non potevano farselo scappare logicamente anche perché non è un caso che la All Elite appena nasce il primo nome grosso che va a chiamare è Randy Orton e su tutti e su tutti i siti e poi magari Tony Khan potrebbe potrà mettere il contrario eccetera con i bot ma con i bot ovviamente ma e su tutti i siti di wrestling noti e vicini alla All Elite la All Elite era interessata a Randy Orton perché non ricordo se in quel periodo era in scadenza non lo ricordo onestamente ma alla fine non lo ottenne ecco non mi ricordo se lo ammise anche Orton stesso adesso lo rimetto diciamo che fece se non ricordo male dei post trollaggio in cui tipo taggava gli FTR e il compianto Brody Lee per diciamo per far intendere che stava per arrivare nei W poi ovviamente era solo trollaggio mi permetti di fare un piccolo intervento a gamba tesa condivido una cosa ovviamente noi l'abbiamo avuto in anteprima Karim annunciato per il ritorno in WLW due minuti fa nella Rival Royal Rumble il 14 di maggio bellissimo 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 il giorno prima dello show IPW tra l'altro sì il giorno prima dello show IPW bellissimo siamo contenti siamo contenti siamo contenti di questo grande Karim grande Karim grande Karim grande Karim e quindi sì questi sono genericamente un po' i ricordi che più ci regano a Randy per quanto riguarda il futuro invece cosa vi aspettate da questo percorso comunque se posso dire una cosa sui ricordi che forse vai 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 ma io ho due ricordi cioè per il piccolo perché sono proprio il periodo in cui ho iniziato e ricominciato a seguire il wrestling primo come ha detto voi la file da con Undertaker quando provò a ucciderlo con le 50.000 volte mi ricordo ovviamente noi ci dissociamo da uccisioni omicidi perfettamente in modo goliardico anche se in questo momento sto seguendo su Netflix quella serie le regole di uccidere quelle cose là comunque va bene anche quello tutto un gioco tutto una burla una burla in pratica c'era Survivor Series 2005 io stavo vedendo tipo le highlights che facevano su Italia 1 che tornò Undertaker e che appunto Randy Orton era scioccato io dato che avevo 5 anni pensavo che fosse tutto vero pensavo che Undertaker stesse per diciamo entrare in casa mia e mi sono nascosto sotto il tavolo molto bene e il secondo è tipo avevo iniziato proprio il momento in cui ho iniziato di nuovo a seguire la WWE perché per due anni seguì solo calcio per la morte di Benoit praticamente stavo facendo zapping mi sono fermato su Sky e c'era praticamente una rissa tra Triple H e Randy Orton e la famosa rissa in cui Randy Orton venne gettato fuori dalla finestra di casa sua e ho detto oddio quello è Randy Orton ma c'è ancora e ho detto anche lì credevo ancora dato che avevo 9 anni credevo ancora che fosse tutto vero però stavolta non ti sei nascosto sotto al tavolo no no invece per quanto riguarda il futuro ecco cosa vi aspettate insomma da questo Orton soprattutto ora che investe il suo tempo all'interno degli Archebro in Fida con gli Usos per la conquista dei titoli tra virgolette indiscussi di coppia se magari splitteranno se non lo faranno io mi auguro sinceramente che se ci sarà una divisione tra lui e Matt Riddle che questo è un'erubile è un'erubile è un'erubile